In mia compagnia Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, innanzitutto complimenti per la carica ricoperta, CIGEP costituisce e rappresenta una piattaforma d'eccellenza per quanto riguarda il business nel nostro territorio. Direi che è stato un inizio col botto e sicuramente iniziare la propria esperienza qui a IAG con questa manifestazione è molto significativo. Questo è uno di quei momenti nei quali le eccellenze produttive dei Made in Italy sia come prodotto sia come macchinari incontrano veramente il mercato mondiale. Parlato di mercato mondiale si aprono nuovi mercati come l'India, la Corea, anche l'Europa dell'Est e per cui il gelato artigianale italiano è apprezzato all'estero. Sì, è apprezzato, è apprezzato il prodotto e è apprezzato il macchinario. Questa è la felice sintesi e connubio che caratterizza questo settore. Ci sono nuovi mercati, il grande sforzo che l'azienda fa ogni anno è quello di individuare in questi nuovi mercati i giusti canali di distribuzione e quindi i giusti buyer da invitare eventualmente qui a CIGEP. Da questa edizione in poi lo sforzo sarà in due direzioni. Avremo una direzione di incoming, quindi cercare, come dicevo, sempre nuovi buyer da portare qui ma credo sarà anche l'anno nel quale faremo dei passi importanti verso una strategia di internazionalizzazione di questo modello, di questo format perché questo è un prodotto che merita nel suo complesso di essere esportato. Grazie a tutti.